o dei raggruppamenti ad essere giudicato e quello delle razze italiane e saranno scelte dal nostro giudice Francesco Balducci che ringraziamo per essere qui con noi e accogliamo con un applauso ed ecco a voi il cane da pastore bergamasco il cirneco dell'Etna Volpino italiano Segugio italiano a pelo raso Bracco italiano bianco arancio Spinone italiano bianco arancio Piccolo levriero italiano I soggetti che vediamo appartengono ai raggruppamenti presentati nella giorniata odierna ovvero quello dei cani da pastore quello dei cani di tipo spizze primitivo quello dei cani da seguita quello dei cani da ferma e quello dei levrieri facciamo un grande applauso a questi splendidi soggetti che rappresentano un pezzo di cultura italiana con le loro attitudini e con la loro storia antica un giro tutti insieme anche in questo caso si può applaudire e come dicevo già ieri noi brianzoli siamo un po' attenti alle spese per cui è gratis possiamo applaudire liberamente facciamo un bel applauso fidatevi di uno che è nato a Mariano come in se ed ora mi recco sul podio insieme al nostro giudice dove chiameremo i tre vincitori cane da pastore cane da pastore bergamasco al terzo posto bracco italiano al secondo posto si sentiva primo vince piccolo levrieri italiano premio di consolazione applauso del pubblico per il segurgio italiano a pelo raso grazie